Vittorie e due pareggi nelle ultime otto partite, per l'Inter il momento felice prosegue. Rimaneggiatissima ma concentrata in difesa, Ferri non recupera, rientra Stringara e Tacchinardi è preferito a Pizzi. La squadra nerazzurra nel primo tempo soffre il partizan solo nel finale e dopo la punizione di Mateus, parata da Pandurovic, rischia in un paio di mischie. Zenga, sempre attento sulla palude modello San Siro di Belgrado e spalleggiato da Baresi e Bergomi, ringrazia la traversa al 42esimo sul tiro di Wisnic. Ma è superato, al diciassettesimo della ripresa, dalla conclusione di Capitan Stevanovic che rivediamo. A rispondere nel giro di due minuti non può che essere Lothar Mateus, quasi a ribadire la legittimità della sicura conquista del pallone d'oro 1990, destro potente e mira precisa uno a uno. Ancora qualche assalto degli slavi con Zenga pronto a tranquillizzare i compagni. E quindi la fine. Inter dunque avanti in Coppa senza problemi.